bella ragazzi prima del video mi raccomando manca davvero pochissimo solo due giorni per partecipare al giveaway di instant gaming trovate ragazzi nei commenti il link per accedere alla pagina che c'è alle mie spalle dove potrete scegliere un articolo a vostra scelta in maniera completamente gratuita e provare a vincerlo vi ricordo che se seguirete tutti i passaggi quelli che state vedendo dove ci sono un sacco di cose extra da fare sicuramente ragazzi avrete più chance di portarvelo a casa per questo buon video bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi abbiamo tanta roba interessante nel video di oggi parleremo ragazzi di sette novità che prestissimo anzi con la patch 7.2 arriveranno su fortnite tante tante cose ragazzi parleremo appunto dell'update 7.2 anche di quello che riguarda una possibile nuova skin in arrivo ragazzi tanta tanta roba e un altro elemento importantissimo che riguarderà un nuovo metodo per costruire quindi ragazzi mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento ma prima ragazzi e vi devo fare la domanda ragazzi la domanda mi raccomando le risposte qua nei commenti io le leggo e vi metto i cuoricini ma le leggo la domanda è molto semplice come state giocando ragazzi senza il vampa fucile la rigiro meglio visto che sono passati ormai un po di giorni da quando è stato completamente eliminato il vampa come ti stai trovando senti la mancanza oppure pensi che non sia cambiato nulla insomma tutto quello che vi viene in mente ovviamente ragazzi scrivetelo qua sotto nei commenti che mi fa un sacco piacere ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance parliamo subito ragazzi della prima del primo aggiornamento che riguarda il proprio l'update quindi quando arriverà questo update ragazzi allora sembrerebbe che sarà disponibile martedì prossimo quindi abbiamo visto anche che questo martedì se non ricordo male c'è stato l'ultima parte della patch 7.1 martedì prossimo invece arriverà intorno alle 14 il classico update con il downtime dei server quindi è un bel po' che non lo stavamo vedendo non sappiamo ovviamente per quanto rimarranno giù i server noi saremmo in live ad aspettarlo e a godercelo insieme a voi ovviamente ma andiamo avanti ragazzi e parliamo subito del secondo argomento che è una modifica alla meccanica dei building che cosa vuol dire ragazzi c'è un aggiornamento importantissimo che riguarderà la prossima patch relativo soprattutto alla costruzione dei muri vi faccio vedere un'immagine ragazzi allora quante volte ci capita che mentre stiamo per posare un muro succede che il muro non viene calcolato completamente ma semplicemente una sottile parte verrà posata questo ragazzi è un grande problema perché se ci pensiamo quando piazziamo la base tra virgolette piccolina che ovviamente non ci può assolutamente riparare dai colpi siamo obbligati a cliccare nuovamente per costruire la seconda parte di muro che permetterà appunto di avere una protezione indicativamente quello che vi sto dicendo è quello che state vedendo dietro di me ma ragazzi che cosa succederà con questo prossimo update allora se quando noi posiamo un muro la dimensione del muro è il 75 per cento inferiore alla dimensione normale di un muro il gioco automaticamente ci piazzerà sopra il secondo muro vuol dire in due soldi che quando noi abbiamo come muro la righetta automaticamente ci viene piantato su anche l'altra parte di muro e sembrerebbe ragazzi che non verranno aggiunti materiali all'utilizzo nel senso costerà 10 materiali nonostante stiamo posando due muri è un update interessantissimo che sicuramente migliorerà un sacco il gameplay e ovviamente non vedo l'ora di provarlo insieme a voi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un altro update interessantissimo che riguarda il nostro tanto amato cespuglio ragazzi perché dico tanto amato perché il cespuglio è vero che oramai si dice e si è sempre detto che lo utilizzano i nabbi però ragazzi dai è dalla season 4 che lo abbiamo e è sempre fonte di divertimento quando abbiamo il cespuglio quando lo troviamo anche se non lo usiamo a me un sorriso strappa sempre beh ragazzi si vede che anche il team di epic games la pensa proprio come me e spero come voi e hanno deciso di fare delle modifiche al cespuglio non ci hanno detto quali saranno nello specifico queste modifiche ma probabilmente sembra che sia possibile riutilizzarlo quindi più di una volta sembra che sia possibile che non occupi uno spazio nello slot e forse ci sarà anche la possibilità di essere molto più nascosti staremo ovviamente a vedere quello che succederà ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un update di cui vi avevo già anticipato qualche nel video scorso se non ricordo male il grande update alle torrette ai campfire e alle trappole verrà aumentato ragazzi il drop rate della dei campfire e delle trappole e diminuito invece quello delle torrette questo cosa vuol dire che sarà molto più facile trovare trappole e falò e molto più difficile trovare le torrette serve ad evitare appunto di arrivare come è successo purtroppo a degli utenti di arrivare in endgame con cinque torrette leggendarie e senza falò o senza trappole apprezzo davvero tantissimo anche questo aggiornamento ma andiamo avanti ragazzi e parliamo della quinta parte di questi aggiornamenti che si rifà ai campi di grano di lande letali allora ragazzi lo sappiamo un po' tutti è sempre stato un argomento un po controverso quando si sta troppo nei campi di grano purtroppo c'è il bug che le foglie vengono poi diciamo fatte vedere ecco come stiamo vedendo in questo momento abbiamo foglie che svolazzano allegramente mentre corriamo in giro si pensava che fosse una cosa voluta da epic games quindi più tempo passi in un campo di grano e più hai la probabilità di avere le foglie no invece ragazzi è semplicemente un bug non voluto quindi potrete stare dalla prossima patch camperati quanto volete nei campi di grano garantiscono che sistemeranno ragazzi il problema del delle foglie che vengono ugualmente lasciate andare dal personaggio nonostante non siamo più nel campo di grano tantissima roba anche per questo update lo apprezzo davvero tantissimo ma parliamo ragazzi invece di quello che riguarda una probabile skin segreta allora c'è una innanzitutto ragazzi parliamo della skin segreta che tutti conosciamo che è quella delle sfide di questa settimana quindi sappiamo che alla alla metà della settimana numero 8 finalmente completeremo le 60 sfide necessarie e otterremo la skin nascosta ma la vera cosa ragazzi si rifà alla skin uscita nello shop da poche ore la skin arc la parte interessante di questa skin ragazzi è proprio la sua descrizione fa parte del set eterno conflitto la domanda che ci sorge spontanea è quale conflitto di quale conflitto si parla e soprattutto se c'è un set allora è molto probabile che ci sia una versione maschile magari in forma demoniaca non lo sappiamo lei è un arcangelo probabilmente la versione maschile potrebbe essere un diavolo non lo sappiamo ma probabilmente sarà proprio così e quindi ragazzi andando avanti e parlando dell'ultimo update è quello è una sistemazione che apprezzo tantissimo si rifà alle torrette montate come vedete ragazzi quando colpiamo una torretta montata il colore del danno non è giallo ma è bianco mentre quando colpiamo tutti gli altri veicoli il colore è giallo e questo può trarci in inganno se stiamo attaccando colpendo chi occupa la torretta non sappiamo se colpiamo la torretta o se colpiamo il nemico con la patch 7.2 verrà modificata anche questa ha fixato questo bug e sarà di colore giallo il danno da ragazzi io direi che per questo video è davvero tutto spero che vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao